Grazie a tutti, eccomi qui con Roberto Morassone, facciamo un saluto ai tifosi della Roma, siamo qua per festeggiare i 70 anni del grande Chimino Prati, quindi è veramente per me un'emozione potermi stringere la mano e forza Roma e speriamo che questo sia l'anno buono, forza! Grazie, un saluto a tutti, ciao!